Buongiorno a Gad Lerner, giornalista, scrittore e come dire spesso ospite di Naufraghi e in questa occasione a maggior ragione abbiamo bisogno della sua lettura di questo voto italiano che è definito inevitabilmente storico. Oltretutto Giorgia Meloni non è solo la prima cosiddetta post fascista ad entrare probabilmente a Palazzo Chigi, è anche la prima donna e a altri primati. Come giudichi complessivamente questa svolta? Buongiorno e a costo di passare per Radical Chic vorrei esordire ricordandovi qual è l'ultima immagine. Io quando l'ho vista ieri su TikTok ho pensato che fosse una fake news, qualcosa messo dai suoi avversari, che Giorgia Meloni ha scelto per salutare gli elettori che andavano ai seggi. Forse qualcuno di voi l'ha vista con un'espressione un po' stralunata, Giorgia Meloni teneva due meloni qui all'altezza del seno, giocando sul proprio cognome e dicendo meloni, sia ben chiaro. Ora, davvero smetto di fare il Radical Chic, tu Aldo parlavi di un passaggio storico, un passaggio storico accompagnato da un'immagine grottesca, di quella che sarà quasi certamente la nuova presidente del Consiglio, la nuova capo del governo italiano. Così si presenta, diciamo, nel mondo intero, non soltanto agli elettori italiani. Ovvero, cancellato il Radical Chic, si presenta come una donna del popolo, una donna che vuole infrangere fin dal principio il linguaggio del politicamente corretto. Non ha cercato l'immagine della statista, ha cercato l'immagine della popolana, cosa che io dico con grande rispetto, sia ben chiaro. Una popolana, che però è anche una professionista della politica, indubbiamente abile, e che rivendica la continuità della sua storia e della sua cultura politica, che è quella post fascista. Nel libro, che ha scritto solo un anno fa, lei si dice l'erede di una storia di 70 anni, i cui principali protagonisti sono stati Almirante, Rauti e Fini. Sono questa la destra che va al potere in Italia. Ecco, però, per esempio, la Meloni non ha mai fatto suo quel giudizio che venne dato da Fini, cioè che il fascismo è anche male assoluto. Ha usato una espressione molto strana, la non dissociazione. Quando gliel'hanno ricordato, quel giudizio di Fini sul fascismo come male assoluto, lei ha risposto, beh, io ero iscritta al partito di Fini e non mi sono dissociata. È un modo, diciamo, di distinguere, ma convogliare. Lei sa che sarebbe un danno per il suo mondo fare una scomunica esplicita del fascismo. Preferisce accantonarlo. Ecco, ma questo cosa significa in termini, diciamo, di proiezione? Quale politica ci possiamo aspettare? Anche al di là delle affermazioni che volevano essere tranquillizzanti da parte della Meloni, rivolta soprattutto alle nazioni che guardano con molto interesse, qualche volta anche con inquietudine, questa svolta che per esempio il New York Times definisce potenzialmente assai rischiosa e mentre la CNN ha fatto un titolo interessante e non ingiustificato il governo più a destra dopo quello di Mussolini. Allora, nonostante le polemiche che ci sono state in Italia, secondo le quali la sinistra gridava al lupo, al lupo, allarme fascismo, e questo avrebbe avvantaggiato Fratelli d'Italia perché gli italiani invece, come dire, se lo sono dimenticato quel fascismo e semmai per autoassoluzione e per indulgenza tendono a minimizzare. Ecco, io contesto che questo sia stato un elemento centrale nella campagna elettorale. Mi sembra che anzi i leader della sinistra si siano cuciti la bocca per evitare l'errore di chiamare in causa il tema del fascismo o del post-fascismo, perché indubbiamente questo c'è di mezzo. La mia previsione è che siccome saranno ristrettissimi i margini di manovra del governo Meloni in politica estera e in politica economica, perché ci sono dei vincoli ai quali lei ha già dimostrato di non volersi sottrare per non essere travolta, prima fra tutti ha rifiutato in polemica con Salvini l'idea di uno scostamento di bilancio, ed è un segnale, un segnale non solo a Draghi ma alla Commissione europea, non faremo iniziative dirompenti. Allora la mia previsione è che dovrà sul piano simbolico delle politiche culturali, dell'immigrazione, dei temi etici come quello appunto delle unioni omosessuali, su quello forzerà la mano, perché qualcosa deve dimostrare che cambia con una nuova egemonia culturale della destra nel nostro paese. E quindi non parleremo di fascismo, ma di una visione alla Trump, se vogliamo dire il punto di riferimento più riconosciuto dalla Meloni, beh quello aspettiamocelo. Andiamo sull'altro fronte, cioè sul principale competitore della Meloni, cioè il PD. Ha sbagliato tutto. Ecco, Letta ha sbagliato tutto. Principalmente che cosa? Non capire che con questa legge, è un errore proprio da dilettante. Sono un po' arrabbiato, simpatizzando io per il centro-sinistra, non dissimulo, quindi sarebbe ipocrita da parte mia. Sono un po' arrabbiato perché se questa è la legge elettorale e quindi puoi avere la possibilità di vincere nei collegi uninominali soltanto se hai un fronte di alleanze, una coalizione, per quanto, come dire, disomogenea, ma ce l'hai, questa idea di andare da soli, io credo che fosse egoistica, nel senso che davano, in questo conte complice di Letta, entrambi i leader pensavano che tanto la Meloni vinceva, che la destra era strafavorita, c'era poco da fare, e che allora gli conveniva nella sconfitta consolidare il proprio apparato, eleggere i miei, garantire così una sopravvivenza. Letta non è riuscito a garantire una sopravvivenza perché quando perdi i collegi dell'Emilia Rossa, della Toscana, in Toscana, Fratelli d'Italia è diventata il primo partito. La base elettorale della sinistra si è dileguata in quasi tutto il paese perché non è stato capace di fare delle alleanze. Credo che sia veramente un errore storico. Gli costerà la segreteria? È probabile, mi auguro che non si dimetta, ci sono voci secondo le quali si dimetterebbe oggi stesso, il che a mio parere sarebbe negativo perché vorrebbe dire che di nuovo a sinistra tutto il confronto, tutto il dibattito si fa su chi sarà il nuovo leader, chi sarà il nuovo segretario, come se quello fosse il problema. Da una parte gli errori di Letta, fra cui possiamo mettere anche una precipitosa negazione a un certo punto del campo largo della coalizione di cui parlavi tu, escludendo in particolare soprattutto i 5 Stelle. con un avvocato del popolo, così si era definito all'inizio, Giuseppe Conte, che in realtà diventa una sorta di novello Lazzaro, cioè fare suscitare i 5 Stelle portandoli a più che dignitoso 15%. Lasciamo perdere poi altre considerazioni che posseremo fare nei prossimi giorni, concludiamo con questa performance di Conte che evidentemente ha scelto la strada che ritiene giusta, quella della difesa, del reddito di cittadinanza, ma anche elementi di socialità che lui spaccia sempre per gratuiti. Aldo, vedo che tu porti gli occhiali, non so se sei miope o astigmatico. Astigmatico. Io sono in questo momento astigmatico, appunto, e credo che questa sia la malattia di Letta, che non sa guardare la società. Quel voto ai 5 Stelle è l'espressione di un'Italia povera, di un'Italia disincantata, che si sente discriminata, che è esattamente l'Italia alla quale la sinistra avrebbe dovuto guardare. Non a caso oggi in tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia i 5 Stelle sono il primo partito. È come se ci fossero due Italie. È impressionante perché il PD è in testa soltanto in due regioni. Fratelli d'Italia è in testa in dieci regioni d'Italia. Le restanti vedono Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, vedono i 5 Stelle e molti, molti astenuti. È come veramente non avete differenze così forti tra i vostri cantoni in Svizzera. I 5 Stelle, questo rappresentano, sono magmatici. In realtà il loro risultato non è esclusivo perché è la metà di quello che presero nel 2018 e hanno governato per tutta la legislatura, si sono salvati perché rappresentano questa sofferenza alla quale in teoria la sinistra dovrebbe cercare di dare risposta. Infatti allora abbiamo un vincitore nel campo dei perdenti, Conte, e abbiamo un perdente nel campo dei vincitori. Infatti vorrei concludere con una riflessione sul caso, chiamiamolo così, Salvini, che precipita la Lega al di sotto addirittura del 10% che era considerato la linea rossa sotto cui non scendere anche per salvare la sua leadership. Guarda, la Lega con o senza Salvini, io non do per scontato che lo mandino via perché non hanno con chi sostituirlo, credo che Zaia non ne abbia nessuna voglia, sono stato domenica scorsa a Pontida e con molti di loro ho parlato. La Lega torna... Non mi hanno insultato questa volta. No, no, sono stato colto con grande cordialità come in tutte le edizioni precedenti, tranne qualche eccezione. Tranne un caso, va bene. Allora? Ti dico che la Lega faceva raduni enormi anche quando prendeva il 3-4% dei voti. Salvini ha fatto una scommessa impossibile di fare la Lega nazionale. La Lega, il leghismo è l'insieme dei localismi, dei campanili, delle rivalità campanilistiche dell'Italia. Ogni città che si sente discriminata rispetto all'altra non è patriottica. Quello è il mestiere della Meloni. Quindi io penso che una Lega che si aggira sul 7-8% è la Lega che forse cavalcando di nuovo nel nord Italia i temi dell'autonomia, se non addirittura della secessione, potrà campare. ma Salvini si era un po' mortato alla testa via. Ecco, ha riportato in sostanza la Lega alla sua connaturale dimensione. Credo che oggi a Gemonio ci sia un vecchio signore che si chiama Umberto Bossi che ridacchia. Infatti, però, diciamo, è un dato di fatto che ha perso Salvini anche quelle che erano le sue roccaforti al nord. Grazie mille, Gad Lerner. Sicuramente avremo occasione e modo di risentirsi anche nei prossimi giorni, visto che comunque sarà un appassionante, per certi aspetti, anche un po' inquietante, prospettiva sia, diciamo, per l'Italia, bisognerà vedere, come dice il Financial Times, wait and see, e anche per l'Europa, perché va al potere, è una persona che stima molto un Orban, a cui piace molto il modello regressivo polacco, a cui piace Trump. Insomma, staremo a vedere. Grazie. Grazie a voi.